Una scuola della provincia di Frosinone è stata selezionata per la sezione Scuole del Giffoni Film Festival, il festival cinematografico nazionale per bambini e ragazzi che si svolge ogni anno tra luglio e agosto a Giffoni Vallepiana in provincia di Salerno. Il cortometraggio che è stato selezionato si intitola Viceversa. È stato realizzato dal secondo istituto comprensivo di Ferentino ed è in piena bagarre per il primato nelle votazioni online. Il concorso My Giffoni nasce proprio dalla lunghissima esperienza del Giffoni Film Festival nella promozione del cinema per ragazzi e fatto dai ragazzi, nonché nella produzione di opere realizzate con gli studenti. Questa sezione è dedicata ai prodotti audiovisivi realizzati dagli studenti in collaborazione con le scuole o con le associazioni culturali. I vincitori verranno individuati e premiati durante la 47esima edizione del festival che è in programma dal 14 al 22 luglio prossimi. La sezione si propone come uno spazio di promozione per i film che gli studenti riescono a creare e a produrre, nonché un modo per comprendere meglio esigenze, speranze e curiosità di bambini e ragazzi. Il video proposto dal secondo istituto comprensivo di Ferentino è stato girato in parte anche negli studi di Teleuniverso ed è l'unico a rappresentare la provincia di Frosinone. I ragazzi e i docenti di Ferentino hanno lanciato in questione un appello affinché la rete voti il loro cortometraggio viceversa. Per farlo è sufficiente andare online nel sito mygiffoni e votare.